Giovanni Polo II nel suo pontificato ha compiuto 12 viaggi nel grande continente asiatico e lo ha reso protagonista di un'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi dalla quale nel 1999 è scaturita la sua esortazione apostolica Ecclesia in Asia che mette in luce una complessa realtà in cui alcune chiese particolari svolgono la loro missione in condizione di pace e di libertà altre si trovano in situazioni di violenza e di conflitto o si sentono minacciate da vari gruppi per motivi religiosi o per altre ragioni Nel documento il pontefice ha preso atto della coesistenza di paesi altamente sviluppati con altri che si trovano tuttora in una bietta povertà ha lodato la bontà dei popoli del continente ma ha anche stigmatizzato l'effetto di immagini di violenza di edonismo di sfrenato individualismo e materialismo che colpisce al cuore le culture asiatiche il carattere religioso delle persone delle famiglie ed intere società per poi denunciare esplicitamente la degradazione di giovani donne ed anche di bambini mediante la prostituzione tale consapevolezza ha indotto papa Voitila a stabilire un dialogo particolare con quello variegato mosaico di numerose culture lingue credenze e tradizioni un dialogo basato oltre che sulla parola sulla sintonia dei sentimenti lo rivela un aneddoto autobiografico raccontato da padre angelo campagnoli missionario del pime il 22 febbraio 1984 ero in aula nervi con un gruppo di sacerdoti di milano celebravamo il venticinquesimo di sacerdozio uno di noi monsignor renato corti ci aveva rassicurato qualche minuto in privato col papa dopo l'udienza generale quando fu il mio turno spiego al papa che ero missionario in thailandia sei in thailandia da quanto tempo domando il papa da 12 anni santità e vivi con i locali parli la loro lingua in calzò sì ma rischio di dimenticare l'italiano perché sono solo in mezzo a loro il confratello italiano più vicino è a oltre 100 chilometri bene stasera vieni a cena da me stava pensando ad un prossimo viaggio in thailandia e voleva sorprendere tutti con l'uso di un po della lingua thai almeno qualche espressione di saluto precisò lavorai intensamente parecchi giorni e presentai otto frasi con traslitterazione in alfabeto italiano e segni convenzionali vari per indicare la pronuncia inclusa cassetta registrata a viva voce quel 13 maggio 1984 ero anch'io allo stadio nazionale di bangkok con le decine di migliaia venuti da tutto il paese ad accogliere il papa lo stadio quasi crollò dalle grida e salti gioiosi della folla incredula d'averlo inattesamente sentito nella loro lingua alcuni mesi dopo ripassando in un villaggio buddista fuori mano dove tempo prima avevo tentato in vano di spiegare chi ero io prete cattolico mi sento dire adesso abbiamo capito tu sei della compagnia di quel grande santone bianco che abbiamo visto in televisione là ha ricevuto anche il re ha baciato la nostra terra e ha parlato la nostra lingua quello vuol bene a tutti noi thai grazie a tutti grazie a tutti